La banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella chiesa di Santa Maria della Pieve per celebrare il centocinquantesimo anniversario dei pompieri civici di Arezzo e il settantesimo dalla nascita dei reparti volo. Il concerto nell'ambito delle celebrazioni dell'importante traguardo iniziate in Piazza della Libertà dove calandosi dalla Torre del Comune un pompiere d'epoca aveva passato il testimone ad un moderno Vigile del Fuoco. Tra le altre iniziative l'esecuzione della scala romana alta 30 metri in verticale controventata sulle note del gruppo musici della giostra del Saracino e il sorvolo dell'elicottero Drago. A chiudere infine le celebrazioni il concerto in Pieve. Grazie. 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 Grazie.